Allora per chi volesse comprare il nostro Silino può trovare Può trovare qua il banchettino, ci sono magliette, calzini C'è in offerta anche il tagliaunghie che usa il patico dalla terra Con il marchio del fosco, non ci intende? Allora il pezzo che andiamo a fare adesso è dedicato a tutti i minatori Nelle nostre varie c'è pieno di miniere Non ci dimentichiamo che siamo stati minatori in tutta Europa Io stesso dagli zii in Belgio abbiamo lavorato nelle miniere di mezzo mondo Ci hanno trattato anche come pezzenti per mezzo mondo Perché bisogna sottolinearlo Quindi noi chiediamo rispetto ma lo diamo il rispetto Questo era un mestiere veramente da cani, da polvere Che toglieva l'espiro anche all'anima Questo è per tutti i frarini Che toglieva l'espiro 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 A presto! 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 A presto!